Un sottomarino nucleare russo, chiamato Kazan, è entrato nel porto della capitale cubana, Lavana, insieme alla fregata missilistica Admiral Gorshkov. La flotta, che comprende anche due navi d'appoggio, una petroliera e un rimorchiatore, è arrivata in vista delle esercitazioni militari previste nei Caraibi. Secondo il comandante in capo della marina russa, le navi hanno già condotto alcune esercitazioni nell'oceano atlantico durante il viaggio verso Cuba. Queste esercitazioni includono l'uso di armi missilistiche di alta precisione su bersagli utilizzando una simulazione marittima al computer. Le navi sono tenute sotto stretta osservazione dalla marina statunitense, poiché si ritiene che la mossa sia una risposta russa all'autorizzazione dell'uso di armi statunitensi da parte dell'Ucraina per colpire la federazione russa all'interno. Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha avuto un colloquio anche con il suo omologo cubano Bruno Rodriguez Parriglia, che ha invitato i paesi occidentali e la Nato alla de-escalation della crisi ucraina e a trovare una soluzione diplomatica. Grazie a tutti.